Buongiorno a tutte, se vi accomodate come siete già accomodate possiamo cominciare. Abbiamo un pomeriggio intenso con dei tempi contingentati perché alle 16.40 questa sala deve essere vuota, quindi se l'intelligenza sintetica esiste oggi ne dobbiamo dare una prova, altrimenti Gardner dovrà cancellare una delle cinque chiavi per il futuro, perché voi sapete che l'intelligenza sintetica è una delle cinque chiavi per il futuro. Mi sentite? Anche laggiù negli spalti? Prego. Sì, però per sentirci dobbiamo stare zitti. Sì, riusciamo? Benissimo. Adesso siamo nella quiete, come diceva ieri la Mortari, nell'anima tenera, quindi possiamo accogliere tutte le idee che questo pomeriggio riusciremo a produrre. Allora, ancora benvenuti a tutti, a tutte e ai pochi tutti. Ho il piacere di coordinare questo pomeriggio che conclude il seminario nazionale sulle indicazioni della scuola dell'infanzia e quindi dovrò stare anch'io nel quarto d'ora e quindi devo partire immediatamente perché non posso fare molte premesse. Cercherò naturalmente di cogliere anche nella mia esposizione iniziale e nel corso del pomeriggio le sollecitazioni che mi sono state riportate dai nuove gruppi di lavoro. Se qualcuno comunque non venisse citato è perché probabilmente si ritrova già anche nella lettura che ho in qualche modo un po' anticipato. Alcune cose le ho anticipate, alcune cose sono state sfornate, fresche, un'ora fa. E quindi, però, insomma, credo di avere colto molto, abbastanza bene, insomma, il senso di questo nostro importante seminario. Parto immediatamente. Allora, noi ci troviamo in un paesaggio educativo che fondamentalmente possiamo rappresentare in questo modo. Da contesti, diciamo, di micro relazioni come la sezione, se vogliamo la scuola, la famiglia, eccetera, diciamo che il bambino poi deve costruire il proprio futuro in una rete sociale molto ampia che, come cercherò di dire nel poco tempo che è a disposizione, fa la differenza rispetto invece a quelle comunità che non si prendono cura dei bambini. Poi vediamo che ci si può prendere cura dei bambini anche soltanto apparentemente. Quindi, diciamo che la parola cura sicuramente è una di quelle che è un po' il filo rosso, ecco, anche di questo pomeriggio come lo è stato ieri. Allora, ho provato a costruire per ognuno di questi, diciamo, spicchi della cipolla, delle parole di collegamento. Cioè, che cos'è che collega di più la sezione con la scuola, quindi con i docenti, gli educatori, i pedagogisti, la scuola con la famiglia, la famiglia con il più ampio contesto sociale. L'ho fatto in base un po' anche alle relazioni che abbiamo ascoltato ieri pomeriggio e direi in una certa misura anche rispetto ai workshop che sono stati fatti questa mattina. Ecco, allora, sicuramente la parola sezione scuola, la parola chiave è il contesto, cioè il contesto di apprendimento. Quindi qui ci stanno molte parole che possiamo poi, diciamo, anche approfondire. Io ne ho messe due. L'estetica dello spazio, e questo è una cosa fondamentale, oggi soprattutto, curare la dimensione in cui i bambini imparano è una condizione per portare i bambini alla soglia della conoscenza, e la sottigliezza dello sguardo. Ecco, l'ho messo sottigliezza perché ho ripreso l'espressione di un grande pedagogista di questa terra, che era Sergio Neri, nostro carissimo amico, che appunto diceva agli insegnanti, alle insegnanti, per poter lavorare bene con i bambini, ricordatevi che occorre affinare uno sguardo sottile. Ci vuole uno sguardo sottile, lo sguardo sottile dell'adulto verso i bambini, che potrebbe essere ricambiato con un altrettanto sguardo sottile del bambino verso gli adulti. C'è uno sguardo osservante, uno sguardo lungo, uno sguardo che non lascia cadere anche le cose che apparentemente sembrano banali. Nel rapporto scuola-famiglia, io vado per titoli di testa, ovviamente capite bene che qui potremmo starci tanto tempo, ma ovviamente guardo veramente l'orologio perché sono un po' condannato a fare un po' quello che prende i tempi nella catena di montaggio, quindi è un mestiere un pochino infame, ma oggi è così. La parola di collegamento tra scuola e famiglia è comunità, perché anche il discorso della comunità vedo che è emerso in modo molto frequente, e qui diciamo che la comunità ha l'obiettivo, quello di condividere obiettivi comuni, facendo cose diverse ovviamente, e definire dei compiti di sviluppo e naturalmente approvarli, condividere diciamo compiti che sono gli stessi compiti, pur nelle diverse competenze che naturalmente ognuno deve mettere in campo. Mentre il rapporto famiglia-comunità più ampia è la parola integrazione, l'integrazione delle competenze professionali, e qui prendo già spunto dal gruppo numero 4, che appunto è il gruppo che ha lavorato con la presenza di tutte e tre le tipologie degli attori della scuola dell'infanzia nel nostro paese, quindi lo Stato, il privato sociale e l'ente locale. Quindi la forma di coordinamento pedagogico, ad esempio nel gruppo, viene indicata come un fattore di qualità di una comunità che sa prendersi cura dei problemi dei bambini. Quindi competenze professionali, pur sapendo che le culture istituzionali dei tre soggetti che danno vita alla scuola dell'infanzia nel nostro paese sono diverse, perché lo Stato ha un DNA, gli enti locali ne hanno un altro, e il privato ne ha un altro. Però, ripeto, l'obiettivo è lo stesso, e piano piano forse riusciremo a svilupparlo un pochino anche nell'arco di questi pochi minuti. Poi c'è un sistema curante che invece riguarda gli attori e le azioni che gli attori devono mettere in campo. Ricordo che il curriculum di istituto è fatto certamente di attività, di esperienze che vengono messe, ma è fatto soprattutto dalle persone, di cui un istituto dispone, quindi io lo chiamo curriculum attoriale, il curriculum degli attori, che ogni giorno recitano la loro parte, meglio che possono, sul palcoscenico appunto degli spazi della sezione, dell'aula, dei corridoi, dei laboratori che nella scuola sono presenti. Allora, sicuramente la parola, sicuramente per me, quantomeno ho cercato di leggere questo, quantomeno la parola che lega i bambini, il soggetto bambini con il soggetto docenti, pedagogisti, coordinatori, eccetera, è la parola saperi. Perché anche ieri è emerso molto chiaramente che oggi sappiamo molto più sui bambini rispetto ad esempio a quando è stata istituita la scuola materna statale nel lontano 1968, ma noi sappiamo ancora forse, dobbiamo scoprire ancora molto sui saperi dei bambini, sul sapere dei bambini. Quindi abbiamo una ricerca molto ampia sui saperi che riguardano, diciamo così, lo sviluppo della prima e della seconda infanzia, dobbiamo forse affinare lo sguardo per capire di più quali sono le potenzialità dei bambini nella fascia 06. E poi, diciamo, tra gli attori, docenti, genitori ho messo la parola incontro che è una parola difficile perché l'incontro presuppone tante di quelle parole che abbiamo ascoltato ieri, la disponibilità ad ascoltare, la disponibilità a guardarsi negli occhi, la disponibilità ad avere quella pazienza che oggi facciamo fatica ad avere perché viviamo in un mondo impaziente, i bambini devono crescere in fretta perché non si sa bene perché, ma questa è un po' la tendenza, no? La fretta, invece noi abbiamo bisogno proprio di rallentare anche i tempi perché i tempi della pazienza educativa sono fondamentali in un'ottica di cura dell'età infantile. E qui ho messo due parole su cui mi soffermo un attimino di più. Il senso del limite, cioè io quando incontro i genitori, la prima cosa che dico, guardate, nelle indicazioni 2012, nelle prime righe, c'è un passaggio fondamentale che è che noi dobbiamo educare i bambini al senso del limite perché gli adulti fanno fatica a presidiare il sistema delle regole, gli adulti genitori e anche gli adulti insegnanti. Allora, il senso del limite è fondamentale perché tu diventi libero, perché si è libero soltanto se sappiamo darci delle regole, altrimenti potremmo rischiare di diventare schiavi dell'eccesso. Ma l'eccesso, come ci ha ricordato il grandissimo maestro Cesare Scurati, ci rende schiavi, ci rende schiavi del capriccio, del capriccio, e diciamo così, di questa immagine a volte onnipotente del bambino. Il bambino non è un onnipotente, è una persona che deve essere seguita, aiutata, curata, come ci siamo detti in queste due giornate. E poi la giusta prossimità, questa è una delle parole che prendo dalla presentazione della mortale di ieri, la giusta distanza tra le persone, tra gli insegnanti tra di loro, gli insegnanti con i bambini, gli insegnanti con i genitori, e questo è un grosso problema, perché oggi rischiamo di vivere in una società molto tipo marmellata, dove ci si confonde, dove i confini rischiano di scomparire, di farsi, di rifarsi ogni giorno. Allora, non so se ricordate l'aneddoto di Schopenhauer, quello dei porcospini, che vengono sorprese da un temporale estivo, si rintanano, si devono scaldare, si avvicinano, ma più si avvicinavano e più si pungevano, più si allontanavano e più non si scaldavano. E quindi alla fine, dice Schopenhauer, hanno trovato la giusta distanza. Ecco, noi dobbiamo fare un po' questo gioco della giusta distanza, che evidentemente non è una formula matematica, perché ognuno doveva trovarla in relazione al contesto in cui lavora. Ecco, lo dico questo perché, ricordando sempre Sergio Neri, lui aveva già indicato, alla fine degli anni 90, questo discorso dell'importanza che i bambini devono avere limiti, perché è vero che il bambino deve essere autonomo, lo abbiamo detto più volte anche ieri, perché il Novecento è stato inaugurato dalla grande messaggio della Montessori aiutami a fare da solo, no? Aiutami a fare da solo, cioè rendimi autonomo, rendimi autonomo. Però per essere autonomi bisogna imparare anche a dipendere dagli altri. Non c'è autonomia se io non so dipendere dagli adulti, dal genitore, dall'insegnante, altrimenti non esiste autonomia se non è anche il senso della dipendenza. Ecco, allora lui questo concetto l'aveva già molto ben chiaro vent'anni fa quando diceva il percorso educativo ha proiezioni a lungo termine nel futuro che contrastano con le soluzioni frettolose dettate dall'emergenza. Per questo centrale il ruolo di autorevolezza dell'educatore, per la sua capacità di cogliere il bisogno di limiti, regole, contenimento delle emozioni, anche quando il bambino sembra chiedere apparentemente il contrario. Per me sono parole molto belle e molto, direi, illuminanti anche rispetto al cammino che stiamo facendo. Allora, prendo solo due parole di quelle che ho indicato prima. Questa è la parola comunità della prima slide che ho presentato. La comunità è una comunità di cura o di incura? Noi abbiamo comunità curanti e comunità incuranti. Ci si può prendere cura in tanti modi. Io credo che la parola chiave della cura sia il fatto che la responsabilità in questo caso non la posso delegare a nessun altro. Chi si prende cura di un altro risponde fino in fondo di quello che ha fatto. Se ha fatto bene, dirà che ha fatto bene perché. Se le cose non gli sono riuscite, dirà che non gli sono riuscite perché. Non è che tutte le cose debbano riuscire. Non siamo condannati alla perfezione, si è ben chiaro. Noi lavoriamo con delle materie umane, non è che lavoriamo con dei materiali diciamo inermi. Poi, ripeto, insomma, ci sarebbe da dire più che volete, ma io mi fermo solo qui. La comunità incurante è quella appunto che diciamo si annoia nella indifferenza fondamentalmente, no? Di quello delle persone che fanno anche bene, magari il loro lavoro, sono rispettose negli orari, di tutto quello che vogliamo, ma appunto lo fanno perché semplicemente è loro dovuto. Perché lo devono fare. Perché altrimenti, insomma, andrebbero incontro di non so che cosa. Quindi, allora, pensiamo un attimo anche a quante scuole sono curanti e quante scuole sono incuranti. Perché poi se andiamo in giro, diciamo, negli altri contesti sociali, abbiamo tanti contesti di cura, ma anche tanti contesti che non curano in questo senso, ma quello che mi interessa è la scuola. La scuola deve essere un luogo curante, altrimenti che scuola è. Ecco, allora, questo è un elemento fondamentale che dobbiamo in un qualche modo mettere a fuoco. Poi, la seconda parola su cui mi sono soffermato è i saperi, perché i saperi li ho legati alla competenza. Perché alla competenza? Perché gli orientamenti del 91, della scuola dell'infanzia, rappresentano, dal mio punto di vista, uno degli atti più riusciti che il ministero, allora MPI, abbia prodotto dal dopoguerra ad oggi. E, di fatto, ha sdoganato l'immagine del bambino incompetente nella fascia 06, dicendo, appunto, aggiungendo che accanto all'identità e all'autonomia si doveva lavorare nella scuola dell'infanzia sulla competenza, che è una parola. Ecco, allora, la competenza della scuola dell'infanzia, così come degli altri ordini successivi, partire dalla scuola dell'infanzia, come diceva ieri Italo Fiorin, è la competenza, la piena valorizzazione del potenziale del bambino 06. Cioè, è, diciamo, per la metafora di Loris Malaguzzi dei cento linguaggi. Dei cento linguaggi. È l'intelligenza della mano, del gesto, dello sguardo, della parola, della parola. C'è il gruppo, adesso, purtroppo qui ho un... Ecco, il gruppo numero 5, appunto, che ha lavorato sull'apprendimento della parola come diritto. Come diritto. Allora, in una società dello schiammazzo e del chiasso, la scuola deve educare alla parola. La parola è fondamentale. È l'unica cosa, forse, ormai, che ci è rimasta, che ci distingue dalle piante e dagli animali. E quindi, se non lo facciamo nella scuola di infanzia, quando lo facciamo? Dove abbiamo, diciamo, l'età dell'esplosione, in questo senso, no? L'età delle grandi potenzialità. E quindi, la parola è fondamentale e se noi andiamo a rileggere le grandi narrazioni della scuola del Novecento, sono tutte scuole della parola. Iasnaia Poliana di Talstoi, Paolo Freire in Brasile, Don Milani Barbiana, solo la parola ci fa uguali, solo la parola ci fa liberi, solo la parola ci fa sovrani, sovrani. Io non educo a diventare padrone, dicevo, educo a diventare sovrani, cioè sovrano di me stesso, sovrano degli spazi, sovrano delle scelte che devo fare, che devo compiere. mentre l'incompetenza è ancora questa immagine di bambino che deve mimare, simmiottare quello che si fa dopo e nel frattempo si perdono le grandi potenzialità dell'adesso, che sono in atto. Questo è il, non è tanto il bambino incompetente, diciamo, che fa tutti gli esercizi, tra virgolette, che anticipa gli esercizi che si fanno in prima elementare, ecco, il bambino, secondo me, diciamo, dell'incompetenza, nel senso che è un bambino che passivamente in un qualche modo coltiva la propria mente, mentre l'intelligenza dei cento linguaggi è il nutrimento di una mente ben formata e ben educata. Ecco, ho già finito, vedete che sono stato anche discretamente sintetico, quindi forse Gardner ha ragione, si possono fare le cose anche sintetiche. Dice Einstein che la mente è come un paracaduto e funziona solo se si apre. Ecco, questo è, diciamo, il messaggio, visto che il discorso dell'anima, il discorso della mente ieri è uscito molte volte, no? Quindi è fondamentale riuscire a entrare anche per noi in questa prospettiva e allora ho immaginato che questo seminario si potesse concludere alla fine con la staffetta che daremo ai Trentini per il seminario che faranno a maggio con questa immagine di un'Italia che viene inondata da tanti paracaduti aperti perché per un'Italia con tanti paracaduti aperti perché abbiamo bisogno di aprire i paracaduti perché non ci siano più in questo paese aree dalla ricchezza educativa e aree delle povertà educative questo è il problema di questo paese lo era ieri lo è oggi e non vorremmo che fosse anche domani quindi il messaggio è questo e quindi grazie a tutti e buon lavoro bene allora lascio adesso la parola a Susanna Mantovani la professoressa Susanna Mantovani che certamente non ha bisogno di essere presentata perché la conosciamo molto bene ha dedicato direi la sua attività professionale proprio ai temi di cui ci stiamo occupando in particolar modo nella fascia 06 è docente della Milano Bicocca non presenterà slide per un problema temporaneo alla vista e però siamo qui diciamo tutte orecchie per ascoltarla e oggi sarò inflessibile va benissimo intanto chiedo scusa proprio perché per un problema non temporaneo ma che spero allora che spero si stabilizzerà non riesco devo non posso portare lenti multifocali devo passare dal vicino con filtro a lontano e quindi vado su un testo e non potrò nemmeno come per me è molto importante data la mia abitudine e la mia età avere il feedback dalla platea perché vedo male comunque vi ringrazio per l'invito ringrazio molto per l'invito ho avuto un colpo quando avevo letto l'invito di Cerini l'ultima tesi la fai tu poi mi sono accorta che non era un invito a me ma era un invito a tutti e mi sono un pochino tranquillizzata altra cosa e avevo visto un programma iniziale anche che prevedeva anche altri interventi per cui ho scelto nel tema che mi è stato dato cioè l'identità pedagogica della scuola e i modelli organizzativi come sempre faccio ormai anche qui alla mia età di dire un po' quel che mi pare però cercherò di rispettare il tema sono molto contenta di avere un contatto con la scuola statale con cui ho al di là dopo le esperienze degli orientamenti anche delle indicazioni del 2007 ho avuto contatti più sporadici mentre ho contatti più stretti per ricerca o anche perché vivo a Milano e quindi la realtà milanese è soprattutto per più dell'80% una realtà municipale per le scuole dell'infanzia adesso ho un contatto come nonna perché ho una nipotina immigrata dalla Germania nata a Berlino che frequenta una scuola statale a Fiesole quindi il mio contatto con la scuola statale diretto poi dopo occhiasoni in realtà ce ne sono state ma tanto per cominciare è come dal punto di vista dall'altra parte nemmeno come genitore ma come nonna il tema che mi è stato affidato la nostra buona scuola e non metterei buona tra virgolette identità pedagogica e modelli pedagogici organizzativi allora parto da alcune brevi premesse mi sembra ci sia c'è un rinnovato interesse nella infanzia e nelle servizi educativi per l'infanzia quello che a livello internazionale oggi dallo starting strong si chiama con la sigla ECEC ICC Early Childhood Education and Care educazione e cura dei bambini nell'infanzia dell'infanzia quindi del periodo prima dell'istruzione formale e mi sembra che siamo anche in una fase di rinascita di interesse nel nostro paese per queste tematiche e anche di prospettive complesse che qualcuno può condividere come si delineano qualcuno e meno ma che sono degne di discussione per quanto riguarda tutto il settore dell'infanzia abbiamo anche un altro elemento ancora delle risorse ridotte le risorse per quanto riguarda gli interventi nella quotidianità delle scuole per quanto riguarda la formazione e questo lo metto da un punto di vista non solo mio perché risulta in molti paesi europei cerco di vedere visto che parliamo di bambini un futuro ottimista ci costringe a definire da un lato degli orizzonti coraggiosi anche se non li perseguiremo molto rapidamente ma anche a trovare in modo creativo innovativo e sostenibile e in qualche modo con corresponsabilità dei modi migliori per utilizzare le risorse che abbiamo oggi e che avremo disponibili io credo che se la scuola dell'infanzia 06 e in particolare la scuola dell'infanzia riesce a farlo potrà avere non soltanto un valore educativo di modello per i bambini e le loro famiglie questo lavoro si fa insieme ma un'istituzione che si impegna su questi punti è un modello di cittadinanza di oggi che deve preoccuparsi non soltanto dei diritti e del benessere tornerò sul benessere ma anche della sostenibilità e può anche in qualche modo arricchire la propria identità con degli significati nuovi assumendo quella che noi che molti di noi che si occupano anche in questi anni di temi interculturali dicono quella che è la necessità per ciascuno di noi nel mondo di oggi c'è un'identità che sia insieme forte ma anche flessibile anche i servizi per l'infanzia in particolare la scuola dell'infanzia deve secondo me fare questo sforzo e queste occasioni questi seminari queste iniziative di stimolo e ripensamento possono essere un'occasione per cominciare a farlo di assumere di pensare alla propria identità al proprio sé stabile e nello stesso tempo pensarlo in modo flessibile allora molto rapidamente qual è l'identità pedagogica della scuola dell'infanzia se potrebbero dire mille cose ne prendo qualcuna anche andando ai documenti a cui io stesso ho partecipato in passato e metto per primo il radicamento nella comunità io spesso spiego a colleghi di altri paesi che mi chiedono se noi facciamo Piaget se noi facciamo Vygotsky se noi facciamo Reggio Emilia se facciamo Sardegioneri o quant'altro che la differenza in molti paesi europei in particolare nel nostro è che la scuola dell'infanzia e tutti i servizi 06 sono esperienze di comunità che incontrano saperi e teorie e non viceversa cioè non abbiamo delle pratiche o spero che continuiamo a non avere deduttivi da teorie anche importanti ma fatalmente parziali e provvisorie ma abbiamo delle esperienze di comunità che cercano anche delle lenti teoriche per comprendersi tra buttarsi in saperi ma da cui non si deducono e quindi non si copiano automaticamente delle pratiche abbiamo è radicata su una visione olistica che viene dalla pedagogia attiva europea che poi si lega con quella di Uiana da russo in avanti ma anche prima c'è una visione del bambino e dello sviluppo olistica il che non vuol dire fare di tutta erba un fascio ma mantenere un'integrazione nella visione in qualche modo dello sviluppo e poi ci torno parlando delle competenze se riesco dello sviluppo dei bambini A è basata questo è l'approccio olistico si vede in quelle che sono alcune grandi categorie che ritornano anche in altri documenti di altri paesi europei in particolare forse noi siamo stati tra i primi per metterli in evidenza e quindi credo che sia il momento di tornare a essere in prima linea per dare delle parole nuove autonomia è stato già citato ma autonomia va ridefinita oggi l'autonomia come la intenderamo montesorianamente eccetera è molto importante ma è un concetto anche questo da ridefinire sono molto orgogliosa di avere appena visto la conclusione di una tesi di dottorato di quella che sarà forse una delle mie ultime dottorate proprio di su questo tema di autonomia e di definizioni in parte nuove di questo aspetto attraverso un lavoro di osservazione molto approfondito e anche di formazione nei servizi per l'infanzia di identità e di competenza che adesso sono diventate e io preferivo a ma va bene anche e perché siamo in un mondo plurale e quindi su cui cominciano naturalmente quando parliamo di questo aspetto cominciano alcune sfide e alcuni aspetti da affrontare affrontare per molto tempo per molto tempo la scuola dell'infanzia non ha voluto sentire parlare di curricolo ma il curricolo e anche questo non è solo un carretto come dice l'etimologia della parola ma è anche una possibilità un'occasione dipende da come lo intendiamo e di questo in qualche modo non bisogna avere paura non significa quindi avere un approccio olistico e questo mi sembra opportuno molto importante affermarlo trascurare gli elementi di apprendimento l'apprendimento è complessivo è vecchio come avviene in molte concettualizzazioni anche di altri paesi in particolare anglosassone separare il socio emotivo dal cognitivo non funziona soprattutto non funziona a questa età è teoricamente abbastanza vecchio non è potremmo su questo andare avanti poi dopo possiamo essere costretti a vedere alcuni aspetti in un momento in un altro ma non significa trascurare l'apprendimento ma avere una visione in qualche modo nuova articolata di apprendimento e di competenze vorrei fermarmi su un altro concetto che è tra le righe o non tra le righe di molti dei documenti o dell'esperienza delle scuole di infanzia e che oggi viene articolato e messo molto arricchito dai documenti internazionali e dalla riflessione cioè il concetto di benessere benessere dei bambini e benessere anche della scuola e dei servizi e mi ci fermo brevemente allora penso che il benessere su questo non mi soffermo sia la finalità di ogni lavoro educativo sia di ciascun bambino sia dei bambini dell'insieme allora questa definizione si è andata molto arricchendo e ampliando molto al di là degli aspetti essenziali che riguardano la vita la salute la felicità e l'assenza di povertà come si evince anche dai documenti internazionali sui diritti dell'infanzia cioè la prosperità la non povertà considerando non solo la presenza e la qualità delle relazioni essenziali per lo sviluppo ma anche il gioco la soddisfazione del bisogno di conoscenza e di esperienze sociali allargate e positive in particolare nei servizi per l'infanzia che è quello di cui noi ci occupiamo e si va a ampliare oggi a comprendere anche altri aspetti il benessere quindi consiste qua cito il consorzio per il benessere europeo lo leggo in italiano nel realizzare il potenziale specifico di ciascun bambino attraverso il suo sviluppo fisico emozionale mentale spirituale in rapporto a se stesso agli altri e all'ambiente quindi una visione molto articolata olistica che tiene conto forse non di tutti ma di moltissime delle esperienze del bambino quindi oggi la scuola dell'infanzia tutti i livelli di scuola in primis la scuola dell'infanzia ha il compito di garantire benessere al bambino venendo il benessere in un modo articolato così come vede la cura in un modo articolato e non in un modo riduttivo rispetto alla risposta a quelli che sono alcuni diritti e bisogni fondamentali ma in cui la scuola ricca per un bambino ricco mentalmente ricca deve poter in qualche modo andare oltre quindi significa cosa può significare per i bambini vivere situazioni inclusive e non discriminanti vedere valorizzate le proprie potenzialità e quindi vivere situazioni nelle quali possono sperimentare regole di vita quotidiana coerenti e proposte con la giusta gradualità con la possibilità di sviluppare capacità di azione di iniziativa quello che si chiama agency nel documento sui diritti all'infanzia poter comunicare in modo efficace sentendosi ascoltati ed essendo messi in grado di prendere iniziative nella comunicazione sperimentare attività che consentano di apprendere attivamente diversi linguaggi esprimersi attraverso di essi venire valorizzati e documentati i propri progressi in cui la documentazione in qualche modo favorisce il ripensamento la riflessione e la memoria avere tempi distesi nei quali il gioco la concentrazione siano possibili vivere in ambienti curati nei quali gli spazi e gli eredi rispecchiano il valore che attribuiamo all'infanzia sviluppare un rapporto diretto equilibrato con l'ambiente naturale sentendosi coinvolti nell'impegno per la sostenibilità e avere esperienza diretta di relazioni positive tra gli adulti che siano i propri educatori e che siano gli educatori con i loro familiari o con altre persone dell'ambiente poi c'è il benessere dei servizi perché come facciamo a garantire il benessere dei bambini se non garantiamo il benessere dei servizi e possiamo credo accenno al tema che mi è stato dato pensare al benessere organizzativo ma anche al senso di appartenenza degli operatori all'impegno nell'assumersi responsabilità individuali e di gruppo per perseguire queste finalità nella disponibilità a impegnarsi nell'arricchimento del proprio patrimonio culturale quindi non voglio andare oltre avevo un testo più esteso un benessere responsabile anche in questo caso torno ai concetti di prima è una finalità importante benessere spazi curati ambiente pensato non vuole dire lussi vuol dire un senso di responsabilità ad usare al meglio le risorse che abbiamo che dobbiamo proteggere e laddove possibile in qualche misura potenziare credo che questo evolversi del concetto di benessere che aggiungerei ai grandi concetti assi della scuola dell'infanzia sia un elemento importante che ci deriva da tanti anni dal 68 in poi ma forse anche da prima di cultura dell'infanzia e in qualche modo ci permette di affrontare alcune sfide che sfidano l'identità forte della scuola dell'infanzia e la devono rendere in qualche modo aperta come dice Einstein immesso che sia una mente e flessibile la sfida delle competenze la sfida del curriculum la sfida dei campi di esperienza per stare nello specifico di quello che diciamo ma anche molte altre senza sottovalutare mai i bambini e cercando di dare assoluta preservando l'originalità e l'attualità dei contesti di apprendimento e di sviluppo che può fornire la scuola il concetto di contesto è un concetto delicato vuol dire che dentro nella vita in cui noi importante non va solitamente evocato significa è un concetto che viene sistemico ripreso da Vigorschi ripreso da tanti autori in cui tutto quello che costituisce l'esperienza che il bambino fa è in qualche modo collegato da questo punto di vista la scuola dell'infanzia come luogo di vita piuttosto che programma è uno dei grandi dei grandi vanti credo di gran parte non tutta la scuola dell'infanzia europea questa è una distinzione che io faccio spesso sono esperienze di comunità che incontrano le teorie sono luoghi di vita e non programmi se andiamo a vedere in particolare nel mondo anglosassone e negli Stati Uniti che oggi dominano la letteratura scientifica diverso è l'Australia diverso è la Nuova Zelanda diverso è il Canada ma prendiamo chi domina gli articoli scientifici in lingua inglese si parla ancora di programmi per l'infanzia questo indica una origine legata alla visione deficitaria dei bambini che avevano bisogno di questi programmi di programmi in qualche modo compensativi di programmi intensivi che venivano dati tuttora vengono dati alcune ore alla settimana a gruppi di bambini in qualche caso anche se la diffusione di servizi a tempo più ampio si comincia a diffondere nelle parti diciamo che hanno sistemi più articolati nel mondo nel nostro caso è diverso ci sono dei luoghi di vita dentro i quali avvengono degli apprendimenti attraverso delle modalità particolari su cui io vorrei abbiamo appunto questo è un elemento ci sono alcune altre sfide una delle sfide che dovrà affrontare la scuola dell'infanzia è un concetto che da noi non esiste e che dobbiamo importare con molta attenzione che è quello non lo voglio nemmeno tradurre la readiness l'essere pronti misuriamo nella scuola dell'infanzia se un bambino è pronto per andare alla scuola primaria ecco io spero che noi ci libereremo presto di questo mostruoso costrutto perché è un costrutto vecchio e laddove è stato applicato in particolare penso a diversi strumenti che ho visto con i miei occhi nell'America Latina ha creato dei mostri e cioè la non possibilità di accedere alla istruzione formale forse anche per sue carenze ai bambini che venì per qualche ragione erano più vulnerabili per motivi di salute per motivi di abilità o disabilità per motivi di provenienza sociale per motivi di provenienza culturale quindi credo che sicuramente noi dobbiamo fare in modo dobbiamo fare in modo che i bambini siano pronti ma non dobbiamo misurare se lo sono semmai misuriamo noi stessi piuttosto che questo e il che non significa non valutare non essere molto attenti a renderci conto seriamente collegialmente oltre che individualmente della validità di quello che proponiamo ai bambini e che stiamo facendo questa è una sfida in qualche modo molto grossa ci sono dei concetti che riportati c'è una spinta alla misurabilità come unico criterio unico paradigma per poter parlare di qualità sicuramente bisogna poter dare degli elementi anche attraverso la misurazione ma nello stesso tempo credo che una serie di concettualizzazioni di qualità debbano rimanere e entrare in tensione con questo anche perché questi sono costrutti altamente culturali e che si differenziano fortemente nei diversi contesti in cui i bambini vivono ma anche nei diversi contesti del nostro paese dove la scuola ha delle caratterizzazioni anche locali che in una universalità di modo di intendere i bambini e anche il loro benessere sono preziosi proprio perché nasce nelle comunità ce ne sono molti altri cerco di andare più velocemente ci sono molti possibilità di vedere il curriculum ci sono possibilità che appunto spacchettano come si dice adesso parlando dei ministeri gli aspetti socio emotivi da quelli cognitivi c'è invece una modalità molto più attuale che è quella molto praticata in moltissime esperienze del nostro paese del lavoro per progetti non è l'unica ma è un esempio quello che tradotto dopo averlo osservato a Reggio Emilia tra l'altro ma non solo da Lilian Katz e da altri colleghi americani viene chiamato il curriculum emergente cioè delle proposte che vengono dal contesto e che vengono sviluppate dal gruppo educativo che burano nel tempo e hanno delle caratteristiche tali per cui le diverse competenze dei bambini i diversi saperi possono essere incontrati entrare in gioco e anche essere elaborati cioè un approccio olistico che non trascura di guardare nel suo farsi agli aspetti specifici faccio un esempio molto concreto su cui stiamo lavorando nel mio gruppo a Milano nel Nido in cui noi dovremmo forse riuscire a fare prima che io vado in pensione forse anche una scuola di infanzia ma in questo che è l'aspetto della natura e ambiente in cui l'osservazione specifica il rigore nei termini di quello che i bambini osservano le modalità di ordine e classificazione di quello che si fa ma anche l'identificazione i significati attribuiti il senso di responsabilità e di appartenenza nei confronti del vivente entrano costantemente in gioco e quindi è di fatto un integrato allora sono aspetti che fanno riferimento a quello e questo è un altro aspetto che vorrei portare alla vostra attenzione che richiedono occhio ampio e flessibile interdisciplinarietà capacità di collaborazione di gruppo quelli che quando andiamo avanti nella scuola vengono chiamati i soft skills le competenze soffici mi sembra più bello morbide o soffici se invece di dire soft skills dicessimo le competenze morbide credo che sarebbe un bel neologismo allora sono proprio questi capacità di lavoro in gruppo capacità di vedere in essi tra diversi aspetti mettere a lavorare individui ricercatori come sono i bambini con competenze diverse sugli stessi temi fare in qualche modo qualcosa Horizon 2020 che è la massima forma di finanziamento dei progetti di ricerca parla di interdisciplinarietà come criterio per finanziare i progetti purtroppo qua parlo da universitario la divisione in settori è drammatica l'università forse anche nella nostra scuola tra le diverse discipline non facciamolo nella scuola di infanzia cioè credo che abbiamo c'è un modo attuale che risponde a quello che si dice debbano essere le competenze dei bambini poi dei ragazzi o dei giovani di affrontare il mondo cioè con delle competenze davvero trasversali facciamo che non sia un nome ma che attraverso delle proposte didattiche rigorose specifiche chiamiamole anche didattiche di apprendimento che siano che vedano i diversi aspetti attraverso i diversi linguaggi la scienza la musica i numeri secondo quello che l'ambiente e i saperi degli educatori ci offre possiamo dobbiamo credo fare uno sforzo di vedere lo sviluppo attraverso queste competenze morbide ma che sono quelle che non vanno perdute mi sono chiesta molte volte in 40 anni di lavoro come mai questi bambini che quando sono piccoli sudano quando esplorano che hanno una curiosità e delle capacità di concentrazione straordinarie di essere normalizzati quando stanno bene come diceva la Montessori come mai la perdono al di là della latenza che va bene perché la perdono cosa fa cosa fanno in qualche misura a qualche scuola dopo allora credo che questa ricchezza oggi la scuola dell'infanzia debba riprenderla per non farsi prendere in maniera sarebbe un peccato in maniera sarebbe veramente uno spreco da modalità di approcciarsi ai saperi che sono adatte quando la mente cresce quando la metacognizione si sviluppa ulteriormente quando le epistemologie delle discipline diventano in qualche modo interessanti in qualche modo individuabili anche separatamente ma non credo che sia l'elemento principale in quest'età anche se già a quest'età negli ultimi anni della scuola talenti curiosità specifiche attrazione specifica per certe tematiche si manifestano e da questo punto di vista l'eterogeneità della classe e del gruppo classe eterogenea anche se omogenea per i livelli di sviluppo può essere un elemento fondamentale per quell'apprendimento collaborativo che oggi chiediamo ai ricercatori di più alto livello come sono come tempi? 7-8 minuti credo peggio allora andiamo questo come in qualche modo naturalmente poi io mi faccio divago e mi perdo fa parte di questo aspetto proviamo a tradurlo a cercare di tradurlo in qualche modo in proviamo a vedere anche che cosa possono essere prima definirle in qualche modo queste competenze trasversali io le definirei in vari modi che ho accolto leggendo anche da documenti di altri paesi e così via riprendiamo l'identità che cos'è? consapevolezza di sé ma anche espressione di sé attraverso linguaggi diversi rispetto di sé e quindi anche rispetto degli altri autoregolazione autonomia come autoregolazione non mi soffermo già molto bene se ne era parlato prima nell'identità ci metterei rispetto di sé degli altri fa parte dell'identità l'accettazione della diversità proprio perché ho un io un me un sé chiamiamolo forte e sempre più solido guardo con interesse rispetto curiosità a quello che è in qualche modo distinto curiosità buona diverso da me benevola e sensibilità ai contesti credo che la sensibilità al contesto e quindi comportarsene via via essere sensibili e quindi essere bene educati nel senso di avere la sensibilità che ci fa rispondere al contesto in modo adeguato e che non ferisca nessun altro faccia parte di alcuni degli elementi che erano già impliciti in quello a cui accennavano i gruppi evidentemente accennava chi mi ha preceduto e questo fa parte anche di una sensibilità culturale interculturale che oggi è una grandissima urgenza penso che ci sia un problema di identificazione con quello che si fa di la competenza è appassionarsi a quello che stiamo facendo e voglia di apprendere e quindi persistenza sviluppo di perseveranza in qualche modo su un compito tenuta nel tempo anche questa mi sembra oggi una urgenza più forte in cui la grande quantità di stimoli porta una frammentazione molte volte dell'attenzione e delle esperienze che i bambini fanno e quindi è un compito molto grande della scuola quello di riportare esperienze che si snodano del tempo che richiedano in qualche modo perseveranza in cui i bambini possono essere chiamati anche se in modo non certo rigido o autoritario e questo è uno degli elementi in cui la scuola gioca il suo significato in parte di riequilibrio legato ai tempi rispetto ad altre esperienze che i bambini fanno vuol dire collaborazione e quindi vuol dire lavoro di gruppo con gli adulti condividendo scopi già tra i 3 e i 6 anni la finalità di quello che si fa può essere colta condividendo scopi e anche rendendosi conto di quale sono le reciproche abilità se non le vogliamo chiamare competenze e creando in qualche modo lavorando in squadra cosa assolutamente necessaria per la ricerca parlo da ricercatore in questo momento e che non se ben fatta non appiattisce mai l'identità e l'individualità del singolo vuol dire anche capacità di riprendere di ripensare quello che si è fatto attraverso la documentazione attraverso molti strumenti che è inutile qui evocare il tempo non c'è e quindi attivare la memoria e cominciare un primo un primo momento di autovalutazione di sé dei bambini del dire questo non lo so fare questo non lo so fare ancora ma lui o lei lo sa fare questo è bene che lo faccia tu ma anche la distribuzione dei ruoli in un gioco simbolico ben fatto che via via cresce vogliono dire un primo elemento di chi sono io chi sei tu chi sa fare e quant'altro che porta che nella testa oltre che nelle esperienze interpersonali e sociali e che è qualcosa che avviene se si osservano i bambini in questi anni diciamo così ho accennato in qualche modo al lavoro per progetto come una delle piste in cui noi riprendiamo un occhio olistico senza trascurare nessun campo di esperienza o competenza specifica che favorisce secondo me il mantenimento dell'attenzione la sollecitazione della memoria i processi che durano nel tempo e contrasta la frammentazione degli apprendimenti integrandoli in cui come ripeto pensando ai tempi pensando agli spazi e pensando alla relazione è valorizzato valorizzato anche dalla eterogeneità dello sviluppo che noi troviamo nelle nostre classi vado a concludere su alcuni molto brevemente preferisco finire un po' prima e non stancarvi che portare via tempo a chi mi segue penso che oggi quindi riprendo quello che ho detto all'inizio l'identità e la tradizione della scuola dell'infanzia che è grande siamo stati un po' depressi per molto tempo in generale nel nostro paese in particolare nella nostra scuola anche nelle servizi per la prima infanzia l'ho già detto in quattro occasioni molte parole chiave che venivano dalle esperienze italiane sono entrate un po' in ombra e sono diventate paradossalmente parole chiave nei documenti internazionali beh riprendiamoci la palla e l'iniziativa ma parlo a tante appunto pedagogista coordinatore ma anche altre parole più legate alla documentazione alcuni aspetti non si parla di training come io dico se il training si fa per i cavalli i cagnolini ma di formazione la parola formazione o sviluppo professionale tradotta ma anche formation che non c'è in inglese ha contaminato alcuni aspetti io credo che la scuola dell'infanzia italiana che ha la grande ricchezza di essere diffusa anche se ancora in modo non del tutto completo in tutto il paese è nelle condizioni di riprendere in qualche modo la palla e di uscire in modo modesto ma modesto nel senso non esagerato sostenibile ma coraggioso proprio su andando verso in qualche modo il futuro affrontando una vita una realtà molto complessa e qua vorrei giungere un aspetto ridefinendo e pensando al proprio curriculum e al modo in cui noi permettiamo ai bambini di mostrare le loro potenzialità e di apprendere ascoltando anche quello che hanno da dire i genitori ascoltando traducendo reinterpretando i genitori a volte dicono le cose male ma hanno le antenne a volte pur dicendolo male sono dei sensori di quello che è il mondo davanti ai loro figli e che verrà siamo ancora in una fase di poco coraggio nascono pochi bambini nel nostro paese questo è un senso di grande grande depressione evidentemente ma ci sono dei genitori che di fare figli italiani di origine non italiana ne hanno il coraggio hanno delle idee e dei timori su quello che i loro bambini devono poter apprendere per poter vivere in modo attivo nel mondo che verrà spingono di più di un po' di anni fa su degli elementi di competenze un po' più hard le lingue la lingua propria le lingue sicuramente la lingua veicolare ma non soltanto nella testa ce ne stanno più di una lo dico per esperienza personale la lingua le lingue quindi un modo diverso di pensare la lingua le lingue i plurilinguismi i plurilinguismi che sono molti ci chiedono a volte invece in questo caso perché sono confusi di essere noi che diamo le regole e su questo bisogna invece essere corresponsabili per esempio le tecnologie la scuola non può dell'infanzia non occuparsi di tecnologie non per insegnarle ai bambini perché questo è ridicolo basta che voi entrate in un nido in una scuola dell'infanzia vedete che il fatto di pensare di insegnare le tecnologie ai bambini c'è la cosa più buffa che un adulto possa immaginare perché la naturalezza dell'accesso agli artefatti tecnologici è immediata pensando che le tecnologie non sono solo i tablet o le limb o il total body che sembra quasi una spa così come viene detta nel modo di esplorare gli oggetti ma significa i bambini fanno filmati fanno fotografie ho un filmato che non vi posso mostrare perché non c'è tempo in cui si vede una bambina di tre anni che fotografa un'altra bambina di tre anni con una foto in cui controlla l'immagine e non si vede ma lo si vede dopo nel film una dietro che con il tablet le fotografa e poi insieme riguardano e ti dico guarda ho fotografato la fotografa anni tre quindi sono anche strumenti per documentare per lasciare traccia non sono semplicemente strumenti pericolosi per diventare dipendenti purtroppo esistono e su questo e questo la scuola dell'infanzia è un elemento di forte riequilibrio per le esperienze dei bambini esistono anche vengono da alcune parti del mondo ho quasi finito associazioni che dicono fate un asilo a casa vi diamo le app per rendere i vostri bambini intelligenti ecco penso che la scuola dell'infanzia possa debba creare usare come mezzo non come fine le tecnologie senza paura così come le lingue ma nello stesso modo mantenere dei contesti in cui tutti i linguaggi il corpo l'esperienza diretta la vicinanza la natura gli odori i profumi tutto quanto restino nella vita dei bambini quindi da questo di vista ha un'impressione ha un aspetto fondamentale finisco dicendo che la scuola dell'infanzia io la vedo utilizzando una definizione di ambito diciamo psicologico antropologico come una nicchia di sviluppo una nicchia evolutiva cioè un luogo in cui noi noi che la studiamo noi docenti insegnanti voi i genitori i bambini attribuiscono significati alle esperienze esperienze è un concetto molto forte nella nostra tradizione che in qualche modo conducono e quindi che hanno vengono interpretate anche esperienze analoghe hanno dei significati diversi a seconda anche parzialmente diversi dei tempi non totalmente diversi se non sarebbero alienanti e questo ci deve far pensare a uno dei temi che non è oggi in discussione ma su cui dobbiamo pensare che è la risorsa di vedere le cose diversamente grazie alle lenti interculturali abbiamo bisogno di una ricerca rinnovata abbiamo bisogno di molta ricerca e quindi questa volta chiudo davvero con quella che è una mia libera adattamento di una citazione di Robert Levine che è un antropologo dell'educazione che io di cui io attribuisco molto valore che dice che la conoscenza e la ricerca avanzano attraverso il dialogo e il confronto e un confronto ben strutturato e ben inquadrato su un tema rilevante può contribuire a concentrare le risorse della e delle comunità e in generale anche della comunità professionale qua penso agli insegnanti in uno sforzo culturale di reciproco riconoscimento e di competenze più profonde e diventare anche un modello di coesione sociale ecco i servizi per l'infanzia la scuola dell'infanzia in Italia sono sempre stati una fucina un crogiolo di dibattito di partecipazione di ricerca di collegamento tra il territorio e la ricerca più di qualche altro livello di scuola ecco credo che su questo piano ritornando al rinnovato interesse che mi sembra che ci sia per l'infanzia e per i luoghi di infanzia credo che questa sia la sfida più grossa che spero io forse non più per tanto tempo ma che tutti voi che lavorate nella scuola con i bambini possiate affrontare insieme grazie bene grazie gli spunti della relazione sono veramente tanti ne indico alcuni identità pedagogica come esperienza di comunità e quindi l'ultimo accenno l'importanza di questa esperienza per la coesione sociale apprendimento competenza benessere responsabile contesto la competenza come morbidezza come passione forse recalcate direbbe anche come eros l'insegnamento erotico dell'ultimo libro l'importanza di fare squadra di fare gruppo ecco allora tutte queste tutte queste riflessioni mi dando lo spunto per richiamare alcune sintesi di alcuni gruppi di lavoro allora il primo è il workshop 6 che lavorava appunto su spazio figure eccetera gli ambienti sono predisposti da un insegnante colto ancora una volta ritorniamo agli orientamenti del 91 profilo di professionalità l'insegnante della scuola dell'infanzia deve coltivare la cultura deve essere un insegnante molto preparato molto colto se è un insegnante colto saprà chiaramente lavorare sui 100 linguaggi e prendo spunto dal lavoro dei 100 linguaggi dove appunto ritornando ad esempio a una competenza che spesso viene così misconosciuta nei bambini da 3-6 anni che è quella della lingua scritta la lingua scritta nel bambino di 3-6 anni si può fare si fa diciamo in tante esperienze purché diciamo ci sia l'intelligenza della mano del bambino e l'intelligenza della mano dell'insegnante tant'è vero che qui leggo la possibilità di scrivere a 4 mani assieme all'adulto il progetto o i progetti e poi le parole valutazione attenzione giustamente dice attenzione a un concetto di valutazione che si butta tutto sul quantitativo e il gruppo numero 7 quello proprio delle competenze una buona cultura della valutazione parte dalla scuola dell'infanzia quindi ancora una volta c'è questo senso di ripartire dalla scuola dell'infanzia c'è un passaggio sempre in orientamento io chiedo scusa se mi richiamo a quel testo ma trovo che sia ancora a 25 anni di distanza un testo di grandissima attualità e poi ancora per fare gruppo gruppo diciamo come comunità professionale ma anche gruppo come bambini occorre costruire repertori siamo il gruppo numero 3 repertori condivisi condivisi da parte del gruppo di lavoro ecco allora siamo al secondo intervento Gisella Lange dirigente tecnico che diciamo è il suo campo diciamo preferenziale è quello proprio del portarsi nell'orizzonte plurilingue nella fascia appunto di cui ci stiamo occupando e quindi a lei cedo volentieri la parola grazie buongiorno a tutti grazie per aver riservato questo spazio all'interno del macro tema scuola dell'infanzia ho pochi minuti a disposizione per cui mi scuso per la rapidità con la quale determinate diapositive verranno presentate innanzitutto volevo mettere a fuoco proprio come in per indicazioni nazionali sia uno degli elementi che vanno interpretati e declinati anche come versanti internazionalizzazione ma soprattutto come innovazione del curriculum quindi siamo qui per le indicazioni nazionali io ringrazio molto il gruppo comitato scientifico nazionale al quale appartengo perché siamo riusciti veramente a fare un buon lavoro di squadra e a mio avviso insieme stiamo veramente cercando di attivare quei processi innovativi che sono fondamentali per lo sviluppo della nostra scuola e sicuramente a mio avviso è vitale capire bene come attivare dei curricoli plurilingue all'interno dei vari percorsi di che cosa appunto cercherò di parlare parlerò di una conferenza che si è appena svolta proprio in questa regione nel mese di dicembre parlerò del rapporto di monitoraggio sulle lingue straniere nella scuola dell'infanzia dispiace che c'è un refuso che è rimasto ma non capisco come mai parlerò dell'Ocse e del famoso documento Strong Starting o Starting Strong a cui alcune hanno fatto riferimento e parlerò anche di un nuovissimo documento che non è ancora stato menzionato ma che è un framework di qualità per l'educazione della scuola dell'infanzia detto ciò parto subito da quello che è stato una bella esperienza in questa regione grosso modo due mesi fa sapete che c'è stata la presidenza e la presidenza non è stata a mio avviso abbastanza vissuta e propagandata a livello delle scuole cioè sinceramente parlando quanti di voi hanno capito l'importanza di questa presidenza del semestre europeo nel giugno dicembre dello scorso anno alzino la mano chi ha vissuto questo protagonismo di presidenza alzi la mano noto che la maggioranza delle persone proprio non l'ha vissuta io con alcune altre persone abbiamo avuto la fortuna e qui c'è presente la professoressa Mantovani che è stata una parte integrante di una grossa conferenza fatta per un numero limitato di persone 150 persone proveniente da tutta l'Europa e guardate caso sull'altare c'era la scuola dell'infanzia cioè la conferenza era proprio focalizzata su ECEC e qui vediamo bene l'acronimo Early Children Education and Care quindi proprio il concetto di educazione e cura dell'infanzia e le declinazioni che è stata fatta in questo convegno è stata anche vedere come Early Language Learning che è considerato assolutamente il trend la tendenza numero uno e la priorità e questo non è ancora stato abbastanza gridato l'educazione linguistica e l'educazione e cura della prima infanzia sono considerati la priorità numero uno a livello di Commissione Europea in questo confronto con varie persone che rappresentavano sistemi scolastici diversi erano presenti grossomodo una trentina di rappresentanze di vari paesi abbiamo trattato tutta una serie di tematiche che ovviamente non abbiamo modo di nucleare e appunto analizzare a fondo tenete presente che il punto numero due staff education and training programs cioè l'educazione delle persone che gestiscono la formazione a livello di scuola dell'infanzia e soprattutto i programmi di formazione sono stati uno degli aspetti salienti con anche l'altro aspetto quello di mapping cioè fare delle verifiche monitoring monitorare e valutare queste esperienze dico solo che se volete trovare queste informazioni e se volete vedere anche le presentazioni che sono state fatte da parte dei vari esperti che hanno visto vari esperti che provenivano anche dagli Stati Uniti ebbene questo repository vi dà la possibilità di scaricare tutto quello che è avvenuto all'interno della conferenza è d'obbligo parlare di questo rapporto di monitoraggio sulle lingue straniere non capisco perché ci sia questo rifuso che ogni tanto ritorna un monitoraggio sulle esperienze delle lingue straniere nella scuola dell'infanzia proprio l'occasione della conferenza internazionale ha richiesto da parte della direzione generale degli ordinamenti che era la direzione incaricata di questo sviluppo ha richiesto di fare un'indagine e quindi la direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha attivato un gruppo di lavoro gruppo di lavoro come vedete è fatto da non molte persone l'ispettrice Daniela Marocchi che stamattina era presente e ha condotto una relazione più dettagliata su questo rapporto di monitoraggio è una persona che lavora in pianta stabile presso l'università altri professori universitari hanno contribuito a questa ricerca però abbiamo fatto in poco tempo grazie alla collaborazione delle scuole il primo rapporto nazionale su cosa avviene all'interno delle varie scuole per quanto riguarda l'insegnamento della lingua straniera il rapporto basta che digitiate rapporto monitoraggio scuola infanzia oppure andate sul sito del MIUR dove ci sono le pubblicazioni lo trovate o andate anche sul sito della direzione generale degli ordinamenti trovate sicuramente a mio avviso questo rapporto serve a voi perché nelle primissime pagine abbiamo fatto proprio un escursus di tutte le esperienze che sono state attivate nella scuola dell'infanzia a partire dagli anni novanti abbiamo cercato di dare una memoria storica e una valorizzazione a situazioni che sono state sviluppate grazie alla buona volontà perché perché sappiamo tutti che le indicazioni nazionali danno un suggerimento per attivare la sensibilizzazione alle lingue ma non creano un'area dedicata all'apprendimento delle lingue straniere o alla sensibilizzazione delle lingue straniere quindi quello che abbiamo rilevato è quello che le scuole nella loro autonomia per la loro buona volontà e per la loro passione passione di fare una buona scuola di creare opportunità per i bambini hanno creato gli ambiti di indagini che abbiamo sviluppato sono due quindi esperienze di insegnamento e esperienze di sensibilizzazione perché proprio nelle scuole c'è spesso una scelta precisa quella di dire io insegno inglese per tot numero di ore o un'altra lingua che può essere francese o tedesco a secondo dell'area geografica in cui ci si ritrova ma soprattutto poi bellissime sono le altre esperienze di cui nell'arco del seminario di stamattina che ha visto la presenza di più di 100-150 persone perché è stato aperto anche a degli altri insegnanti che oggi non erano ad esempio coinvolti in queste iniziative e quindi queste esperienze di sensibilizzazione definendo appunto la differenza tra l'una e l'altra come esperienza di insegnamento approccio non disciplinare ma strasforzale ai campi di lingua straniera e l'altro invece attività di esposizione a più lingue e culture orbene nel giro di un mese questo questionario ha visto ben 1740 risposte validi erano molte di più ma le risposte validi sono state queste con una distribuzione regionale più o meno allargata ma molte scuole non avevano nemmeno letto la circolare quindi è importante capire che comunque in tutte le regioni è stato rilevato quanto o bene o male opportunamente era stato sviluppato dalle singole scuole allora giusto per rapidamente farvi capire alcuni dati proprio a volo d'uccello sicuramente c'è una presenza forte di esperienze di didattica come vedete il 58% quelle di didattica proprio della lingua l'insegnamento della lingua vera e basta mentre nell'altro caso esperienze di sensibilizzazione al 44% dei casi si vede invertita la proporzione se si va appunto in un tipo di scuole statali o non statali tipologia del docente tipologia del docente vede appunto in alcuni casi il docente madrelingua volontario in altri docente esterno specialista quindi una persona pagata stamattina abbiamo sentito di un'esperienza in cui uno sponsor non faccio i nomi uno sponsor paga docenti madrelingua di russo inglese e spagnolo se non mi sbaglio come terza lingua che vanno nella scuola e offrono esperienze molto precise uno sponsor che è un imprenditore che reputa assolutamente importante lo sviluppo delle competenze linguistiche sul suo territorio e come vedete non parte dalla scuola primaria o dalla scuola secondaria parte dalla scuola dell'infanzia perché perché è sempre più ritenuto vitale partire dai piccoli più piccoli sono meglio è e soprattutto con una buona esposizione una piccola riflessione sui livelli di competenza dei docenti che fanno questo insegnamento come vedete abbiamo un po' di tutto il docente che è al più basso livello a due e che comunque come capite si impegna per darsi da fare in questo ambito di competenza sicuramente a livello appunto invece di classi in cui c'è la sensibilizzazione le statistiche cambiano leggermente però come capite abbiamo delle competenze autodichiarate che arrivano fino all'ultimo livello il più alto il C2 detto ciò andando più a fondo con le esperienze di insegnamento di lingua straniera vado rapida ma ripeto il rapporto lo potete scaricare e guardare con attenzione arrivo subito a dire che in queste scuole le esperienze sono per l'85% attività applicate altre scuole hanno risposto appunto sì oppure no interessante vedere l'età di inizio al 57% cominciano dai 5 anni in su quindi vuol dire che cominciano nell'ultimo anno della scuola di infanzia al 16% cominciano a 4 anni e qui purtroppo è un problema proprio del computer che anche ieri ha creato problemi la visualizzazione di certe slide è un po' falsata a 3 anni il 27% delle esperienze quindi interessante vedere come in base alla possibilità di risorse si sviluppano queste esperienze bello vedere che non c'è solo l'inglese dominante in queste ovviamente scuole che hanno risposte bello è vedere che sì l'inglese è dominante ma abbiamo anche francese spagnolo e altre materie mi spiace devo correre sulle aule dedicate delle lingue straniere e così via è veramente 10 minuti adesso che sto parlando mi hanno detto 15 vabbè le esperienze di sensibilizzazione pure sono attivate in buona parte delle scuole e sui materiali è anche qui un altro elemento di indagine molto di interesse senz'altro la presenza di un'aula dedicata alla sensibilizzazione è utile o sensibilizzazione o lingua avere un'aula solo per le lingue risulta di fondamentale importanza e anche in questo caso è opportuno capire che la scuola può organizzare questi spazi due ambiti di conclusione rapidissimi su questo aspetto aspetti positivi sono stati sicuramente le attività vissute come importanti per promuovere apertura e curiosità sicuro interessante capire come anche l'utilizzo di materiali multimediali abbia aiutato queste esperienze e infine vedere il timido affacciarsi delle varie lingue come già detto criticità certe volte la lingua straniera non è utilizzata al meglio vale a dire utilizzano sembra che gli insegnanti parlino di lingua più che fare lingua e infine il grosso buco perché non esiste assolutamente un piano nazionale di formazione docenti della scuola dell'infanzia il buco nero della formazione dei docenti e questo speriamo che sia uno degli elementi che possano fare due riferimenti rapidi all'Ocse con questo starting strong che è uno dei progetti che a mio avviso deve essere preso in analisi da parte di coloro che operano nella scuola dell'infanzia è un progetto del 2012 la tipologia di prodotto è un toolbox una scatoletta con dentro degli strumenti di lavoro gli strumenti sono di vario tipo soprattutto sono strumenti che vi fanno capire quello che è una delle core issues uno degli argomenti vitali vale a dire come sviluppare un insegnamento di qualità all'interno della scuola dell'infanzia non parlo solo di lingue parlo in generale del concetto di come attivare al meglio la scuola di qualità questo starting strong è stato citato ieri è stato ripreso oggi anche in altre circostanze allora ricordatevi che se volete mettere le mani su questo prodotto basta che digitiate OSD e lo trovate con facilità basta OSD perché OSD è il termine inglese OECD organization e così via il quality framework scusate cioè l'altro ripeto basta che digitiate starting strong o ECD e siete a posto non c'è problema comunque queste slide poi saranno messe a disposizione anche sul sito in cui lo ricordo indicazioninazionali.it moltissimi non conoscono questo sito e non lo visitano abbiamo proprio un sito indicazioninazionali.it ultimo punto il quality framework avete capito che l'Ocse l'organizzazione mondiale ha dato alcune indicazioni per una qualità dell'insegnamento nella scuola di infanzia in ambito europeo hanno stanno cercando di mettere a fuoco un framework abbiamo un framework per le lingue abbiamo un framework per le competenze abbiamo un framework ora anche per ECEC Early Childhood Children Education and Care Education and Care e abbiamo tutta una serie di linee che sono state sviluppate negli ultimi anni in particolare un'ultima raccomandazione proprio sulle lingue sul multilinguismo che vede appunto una situazione di necessità di maggiore attenzione inutile negare che come capite al centro di tutto c'è la Teacher Education il mio consiglio è quello proprio di capire come il nostro sviluppo professionale ci porta ad attivare questo ECEC Quality Framework vado rapidissima alle ultime slide ho finito mi avevate dato un quarto d'ora io sto parlando esattamente per un quarto d'ora va bene allora nel momento in cui appunto abbiamo anche delle nuove idee sulle cosiddette cerebralità modalità con le quali si sviluppano delle linee di azione all'interno di se stessi ricordateci che il luogo del pensiero è quello che più si sviluppa e per la neurolinguistica le varie analisi che vengono fatte dalle neuroscienze sono di fondamentale importanza ricordiamoci che appunto quest'area si sviluppa in particolare se abbiamo forti sviluppi emotivi sviluppi emotivi che a mio avviso vanno fatti sicuramente immaginando creando rinnovando il nostro modo di insegnare ma soprattutto ringraziando tutti coloro che stanno operando all'interno della scuola dell'infanzia dando nuove prospettive ai ragazzi offrendo quindi l'insegnamento delle lingue e soprattutto veramente creando anche in se stessi quella passione che come abbiamo visto è il vero elemento trasversale che può cambiare il fare una bella scuola grazie bene bene e io ovviamente vi invito a scaricare il rapporto io l'ho ovviamente esaminato ed è interessante e quindi vi invito tutti i presenti a fare altrettanto e vi ricordo no venite tutte e tre venite tutte e tre vi ricordo alcune note organizzative molto importante primo allora nella cartellina c'è il questionario di gradimento e quindi dovete compilarlo e lasciarlo lì alla segreteria poi come secondo come secondo memory allora tutte voi siete invitati a scrivere la decima tesi la decima tesi e mandarla all'email che trovate in calce appunto al programma e poi dopo diciamo che questo seminario probabilmente potrà avere anche una forma di restituzione che non sappiamo ancora quale veste potrà avere ma penso che sarete reinformati rispetto appunto a tutti i lavori che nel seminario si sono sviluppati siamo veramente alle battute conclusive però questa è una tavola rotonda un po' non rotonda nel senso che chi ha la parola la può prendere solo una volta e quindi io dovrò purtroppo ancora una volta stringere i tempi il più possibile lo faccio più volentieri con le persone che conosco perché ho meno soggezione mentre no 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 allora Sandra Benedetti è responsabile del programma operativo dell'area infanzia e genitorialità della regione Emilia Romagna grazie cercherò di essere sintetica pur nella distensione la questione che mi è stata chiesta di la comunicazione la comunicazione che mi è stata chiesta di fare riguarda sostanzialmente il contributo che la regione Emilia Romagna ha dato alle politiche per l'infanzia relativamente non solo alla scuola dell'infanzia ma e qui lo dichiaro subito il mio intervento verterà prevalentemente ovviamente sul segmento 06 perché le politiche della regione Emilia Romagna includono le scuole dell'infanzia in un'ottica di continuità che è sia verticale che orizzontale devo dire che mi è piaciuto molto questa possibilità che è stata concessa soprattutto negli workshop di stamane nel discutere nell'affrontare i temi che riguardano anche le scuole dell'infanzia dalla prospettiva di testimonianze che hanno messo in campo lo scambio e è sullo scambio infatti che è maturato ormai la consapevolezza anche nella nostra regione che è sempre più diffusa e vitale per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia andare ad immaginare e proporre nuove esperienze intorno alla costruzione e alla valorizzazione del sistema di welfare e questo dinamismo è molto sostenuto anche da filosofi come Ceruti il quale dice che un terreno emblematico è la costruzione di un nuovo welfare sia per quanto riguarda un nuovo welfare e di una nuova società della cura e tale costruzione si ispira al principio universalistico sia per quanto riguarda i destinatari sia per quanto riguarda gli obiettivi che riconosce come beni pubblici non solo quelli prodotti dallo Stato ma anche quelli prodotti dagli attori sociali della collettività e quindi ha messo in evidenza che cosa? Il fatto che la cura la costruzione e l'educazione alla cura e al benessere e agli apprendimenti sia centrale nella vita di una comunità educante sul piano epistemologico peraltro la cura per la sua pregnanza etica nell'accessione che ne dava ieri mortari cioè come cura dell'anima che si esprime nella capacità di avvertire il tessuto emotivo dell'altro per la sua pregnanza etica comporta sempre il riferimento esplicito al pensiero della complessità ben espresso in differenti scritti da Moren il che richiama appunto al prendersi cura come una questione che esce dall'esperienza privata e si propone come un aspetto etico significativo quindi inerente all'etica pubblica e queste sono le considerazioni che in qualche modo muovono anche i politici e gli amministratori locali in alcune regioni compresa la nostra e che cosa ha dovuto fare questa regione e voluto fare prendere atto evidentemente che il primo obiettivo da mettere in conto per un manifesto legato alle scuole dell'infanzia e ai servizi per la prima infanzia è l'esplicitazione delle diverse identità pedagogiche aspetto questo che implica la messa in comune di riferimenti culturali sottesi alla cultura pedagogica tra i diversi soggetti gestori perché uno degli aspetti fondamentali sui quali la regione ha lavorato e sta lavorando è proprio questo tema del sistema integrato cioè la capacità di diversi soggetti gestori di entrare in pista con un'offerta educativa ragionata dialogata a questo proposito non è ininfluente ovviamente il lavoro costante a cui sono sollecitati i coordinatori pedagogici e l'equipe educative per definire quelle competenze morbide come diceva Mantovani ne richiamo solo alcune giusto per rinforzarle l'apprendere a rapportarsi con adulti diversi dai propri genitori l'imparare a rispettare piccole regole ma fondamentali nella vita di comunità con fermezza e delicatezza come diceva ieri i mortari imparare a deferire i propri desideri a decentrarsi dal sé per mettersi in empatia con l'altro imparare la capacità progressiva a tollerare le difficoltà e le piccole frustrazioni i piccoli graffi come diceva ieri guerra la capacità di stabilire una pausa tra stimoli e pulsioni perché l'educazione deve darsi un tempo un tempo per inserire un oiato in cui si incunia il pensiero che necessita appunto di elaborazione ancora la capacità di esprimere competenze che non vuol dire sapere molte cose l'hanno detto in molti anche stamattina ma utilizzarle rielaborandole secondo un pensiero autonomo e creativo e la capacità di divenire co-costruttori come bambini di culture e conoscenza per sé e per gli altri adulti coetani compresi gli adulti e i coetani che li affiancano e per rispettare questi passaggi la scuola dell'infanzia e anche il nido hanno dovuto ovviamente fare propria la pedagogia dell'ascolto del bambino e del benessere che passa anche attraverso il rispetto della relazione dei suoi tempi e per questo noi abbiamo molti dubbi davanti a una pedagogia dell'anticipo dell'accelerazione una pedagogia che rinuncia al corpo alle esperienze dirette alla ricerca dunque questi punti che io ho ennucleato molto velocemente rappresentano una piattaforma del manifesto pedagogico sul quale i coordinatori ed equipe educative si allenano costantemente nella nostra regione ma un impianto pedagogico deve essere anche sostenuto da uno scaffolding normativo ed è per questo che una regione attenta non può non esimersi da quel lavoro di rammendo a cui si faceva riferimento ieri inteso come arte di legare unire connettere e fare appunto del rammendo un tentativo da un lato di conservazione ma dall'altro di innovazione quindi alla regione ovviamente in questo gioco compete intanto potenziare la cura degli assetti istituzionali e normativi in cui gemmano e si sviluppano i programmi politici che danno anch'essi valore luogo alla costruzione di un welfare dedicato all'infanzia e alle famiglie molto spesso nei documenti pedagogici nei progetti pedagogici sono poco esplicitate le cornici normative e legislative che sorreggono l'impalcatura sulla quale invece poggiano i servizi e le scuole dell'infanzia mentre centrale appare invece la conoscenza delle norme come sfondo di senso in cui collocare le azioni e i programmi allora noi come regione abbiamo dall'83 ad oggi varato cinque leggi ogni legge relativamente alla scuola dell'infanzia intendo dire perché poi c'è invece la parte dei servizi 0-3 sulle scuole dell'infanzia abbiamo progressivamente messo in campo dall'83 leggi che per certi aspetti in primis all'inizio declinavano i diritti di accesso per i bambini e le bambine anche attraverso una qualificazione della scuola dell'infanzia cercando di favorire uno stretto raccordo con i nidi e con le istituzioni scolastiche successivamente le leggi che hanno avuto luogo negli anni successivi hanno cercato di connettere cioè prendere dentro anche il rapporto con i gestori privati prefigurando in alcune di queste norme addirittura degli schemi di accordo degli schemi di convenzione che gli enti locali avrebbero potuto cogliere come strumenti regolatori nel sistema ed è questo che la regione deve fare presidiare sempre la qualità attraverso le norme e fare governance cioè non precludere nell'ottica dell'offerta educativa l'ingresso di soggetti gestori altri dal pubblico purché quei gestori altri che entrano con la propria offerta educativa siano ottemperanti di norme definite dal pubblico l'ultima legge la legge 12 del 2003 su cui arriverò più tardi queste leggi che vi ho detto sono leggi che ci hanno consentito di lavorare molto su progetti di qualificazione utilizzando lo strumento delle aggregazioni tra scuole dell'infanzia dello stato del comune e del privato paritario anche il comune privato paritario ma insomma scuole fisme per intenderci del comune e dello stato e in più queste stesse norme ci hanno consentito di varare delle intese intendendo come con questi strumenti diciamo dei veri e propri delle proprie leve per adottare per consentire che il privato paritario potesse entrare nella logica del sistema adottando anch'esso una maggiore flessibilità degli orari una diffusione della compresenza un miglioramento del contesto una valorizzazione della partecipazione dei genitori un potenziamento della documentazione come leva centrale della progettazione in più sempre attraverso le intese e queste norme che peraltro segnalo hanno anche dato e offerto contributi alle scuole dell'infanzia del sistema paritario si è fatto leva sul potenziamento dei coordinamenti pedagogici soprattutto per i gestori paritari privati poiché i comuni prevalentemente erano dotati di questa figura e anzi per un periodo per un quinquennio noi abbiamo sperimentato anche l'adozione del coordinatore pedagogico alle scuole dell'infanzia statali questo per disponibilità di alcuni dirigenti scolastici e alcuni istituti comprensivi che hanno colto questa offerta della regione in una felice stagione in cui la regione possedeva una quota maggioritaria pensate di fondi per effetto di un fondo straordinario nidi che noi utilizzavamo e stornavamo una parte proprio nell'ottica del potenziamento della quantità tra nidi e scuole dell'infanzia ed è stata una felice occasione che abbiamo dovuto interrompere perché laddove sono venuti meno i fondi destinati ai servizi per la prima infanzia 03 automaticamente non potevano esserci come dire delle possibilità di rinvestimento in questa direzione stamane nel workshop dove io ero una collega ha proprio restituito l'importanza della connessione che ha creato questa esperienza con la rete del sistema dei servizi territoriali nei luoghi in cui si sono realizzati devo dire che un altro aspetto importante che abbiamo cercato di realizzare come regione è stato quello di ampliare il raggio degli scambi pedagogici oltre il perimetro del proprio campanile perché è solo nel melting pot pedagogico che si favorisce una consapevolezza sulle differenti identità dei servizi educativi scolastici sui loro modelli organizzativi e gestionali sui riferimenti pedagogici ciascuno dei quali va ricondotto ad un'idea di bambino contemporaneo che ovviamente va dichiarato vado rapidamente alla seconda azione che riguarda e che costituisce l'elemento fondante della regione in questo momento ed è il tema della qualità la valutazione della qualità è uno degli elementi importanti perché per la regione in questo momento la riflessione è convergere sull'idea che valutare in ambito educativo significa sospendere il giudizio orientarsi piuttosto che ai soli dati quantitativi valutare invece quelli qualitativi sottesi alla costruzione del significato ovvero del perché agisco in un certo modo piuttosto che in un altro e allora davvero diventano centrali alcuni interrogativi perché valutare significa orientarsi sul processo non trascurando il risultato ma non intrattenendo con il risultato una relazione pericolosa così come non può essere oggetto di seduzione lo strumento che si adotta che ripeto un fine e un mezzo e non un fine quindi da questo punto di vista davvero i centrali sono alcuni interrogativi che permangono anche attraverso la valutazione e che a cui la valutazione attraverso la riflessività che mette in campo e ancora una volta devo dire che questo lavoro che noi stiamo facendo sullo 0-3 si sta riverberando nel 3-6 perché alcune scuole dell'infanzia per esempio paritarie private comunali stanno adottando l'idea di una riflessività della progettazione educativa che adotta appunto questo discorso della valutazione come occasione per coevolvere per stare dentro alla relazione con i bambini attraverso gli interrogativi che sono propri in contesti perennemente in trasformazione e il dibattito appunto tra modernismo e postmodernismo stra proprio qui nella differenza tra certo e incerto e nell'incerto abituarsi a considerarlo non come una perdita di identità ma la cui eccessiva affezione può produrre nel tempo isolamento ed entropia ma come inizio della co-costruzione termino dicendo che con la legge 12 del 2003 l'ultima legge in ordine di tempo noi stiamo potenziando unitamente questo percorso sulla valutazione stiamo potenziando alcuni obiettivi che secondo noi rimangono inalienabili anche per le scuole dell'infanzia noi siamo quasi al 95% della copertura non abdichiamo siamo ancora dell'idea che sia importante generalizzare l'estensione dell'offerta in particolare della scuola pubblica la qualificazione e quindi la regione definirà linee orientative basate sulle ricerche e sulle esperienze proprio per cercare di rafforzare attraverso la qualificazione anche la dotazione organica relativamente alla figura del coordinatore e tant'è che quest'anno la nuova giunta che sta approvando in questi giorni il bilancio aumenta di 80 mila euro la dotazione complessiva sulla quota stabilita per il sistema formativo 06 nella nostra regione la partecipazione delle famiglie e la continuità ovviamente tutto questo percorso noi lo mettiamo a disposizione su un sito che è il sito della nostra regione che lascerò qui agli organizzatori affinché ciascuno di voi soprattutto chi proviene da un'altra regione può consultare nella consapevolezza che una rapidità di questa natura non può dare certo credito a un'informazione probabilmente esaustiva grazie bene ringrazio Sandra Benedetti tempo purtroppo che ho a disposizione mi consente di cedere la parola alla seconda relatrice che è l'Agostina Melucci dirigente tecnico provveditrice di Forlì e Rimini ed è la figura diciamo storica della scuola dell'infanzia statale dell'Emilia Romagna mi piace molto questa presentazione io amo molto la storia vengo poi dalla scuola dell'infanzia quindi bene grazie purtroppo il tempo è tiranno e noi siamo noi tre collocati in una fascia estremamente delicata scuola dell'infanzia statale con intrecci inevitabili anche con la storia gloriosa della nostra scuola dell'infanzia italiana è passato quasi mezzo secolo per l'esattezza 47 anni da quel 18 marzo del 68 quando fu emanata la legge 444 per cui è nata la scuola materna e oggi scuola dell'infanzia e notate lo sappiamo bene noi addetti ai lavori noi chiamiamo particolarmente le buone parole come anche il cambio di parole abbia poi degli effetti anche sull'identità complessiva non solo nostra di persone ma anche sull'identità istituzionale quindi il 18 marzo del 68 è nata quella che ora è la scuola dell'infanzia forse marzo pensavo potrebbe essere un mese dedicato alla nostra scuola perché non a caso siamo qui anche in marzo la sua istituzione l'istituzione della scuola materna ora appunto scuola dell'infanzia insieme all'istituzione nel 62 della scuola media unica a mio parere rappresentano le riforme le innovazioni strutturali più incisive dal dopoguerra in avanti perché hanno modificato radicalmente il nostro sistema scolastico e in generale la società del nostro paese ci sono aspetti di permanenza l'abbiamo detto molte volte in questi due giorni anche oggi pomeriggio ci sono aspetti di permanenza tratti di identità termine bellissimo quello di identità che non è qualcosa di mumificato o di solidificato ma noi siamo persone perché abbiamo un volto così noi dobbiamo avere un'identità precisa e definita nelle nostre istituzioni perché solo in questa maniera è possibile che poi chi vi abita sia gli adulti sia i bambini ed anche in forme diversi genitori sanno chi sono e credo sia molto importante suggerire delle buone identità in questa fascia in questo momento storico piuttosto tormentato cito brevemente quelli che a mio parere sono gli elementi fondazionali che a me piacerebbe rimanessero nelle nostre scuole le finalità educative non dimentichiamole mai non è qualcosa di ammuffito il quadro teleologico ci indicano il senso sono le prospettive ci indicano la direzione sono le bussole l'esperienza lo voglio sottolineare a chiare lettere non diamolo per scontato la nostra meravigliosa scuola dell'infanzia italiana nelle sue varie articolazioni nelle sue varie forme gestionali è scuola dell'esperienza non è la scuola delle fotocopie del prescolastico del pregrafismo della prelettura è la scuola dell'esplorare la scuola del fare è la scuola dell'agire ed è una nella migliore tradizione attivistica rivisitata ma è l'esperienza che è unitaria che poi si articola in campi ma l'esperienza ha un carattere unitario va ricomposta e ricostituita e quindi ricerca le connessioni ricerca i collegamenti si basa su trame narrative solo così attraverso la rielaborazione dell'esperienza che è la grande lezione degli orientamenti del 91 è possibile che la stessa esperienza diventi oggetto di riflessione emergono nuovi significati e un diverso quadro d'insieme il gioco è un altro elemento identitario della scuola poi vi dirò perché insisto su questo termine dal mio punto di vista il gioco il gioco è la modalità specifica dell'esistere del conoscere dell'infanzia e continua ad esserlo anche nel tempo del puer tecnologicus il gioco ha un grande valore fondazionale generativo essenziale il gioco del vedere del guardare dell'immaginare il puer è ancora un puerludens la dimensione relazionale condizione per imparare l'imparare si costruisce nella relazione e nel contesto educativo in cui si declina il noi pensiamo anche alla straordinaria capacità creativa delle nostre scuole dell'inventarsi relazioni con cui si costruisce l'apprendimento per coppie piccoli gruppi grandi gruppi gruppi liberi strutturati botteghe tani intersezioni angoli eccetera quindi la scuola dell'infanzia non insegue modelli precocisti né preparatori agli apprendimenti strumentali né meramente assistenziali si è inventata noi ci siamo inventati in modo unico nel panorama scolastico nazionale un originale modo di fare scuola che è diventato un modello ripeto non qualcosa di statico però c'è un modello della nostra scuola italiana e questo è avvenuto grazie alle sperimentazioni alle ricerche alle innovazioni al positivo rapporto con l'università nella reciprocità perché il rapporto è naturalmente in un circuito virtuoso la scuola da molto l'università e viceversa noi siamo scuola scuola perché siamo un luogo intenzionale di cura educativa nel significato profondo mi piace molto il fatto che ci sia questo collegamento in cui ci riconosciamo per lo meno gran parte di noi si riconoscono in quella meravigliosa lezione magistrale tenuta ieri da luigina mortari quindi la cura vuol dire prendersi a cuore l'altro il mondo io cura per cui sono curiosa se non non abita in me la cura non sarei neppure curiosa non sarei attratta non avrei la passione verso l'altro e verso il mondo che mi fa muovere e pertanto vivo pienamente il mio tempo desidero partecipare desidero contribuire desidero esserci con i miei limiti e le mie possibilità e quindi siamo scuola perché offriamo le condizioni per entrare in modo felice nel mondo degli alfabeti noi siamo scuola perché il nostro spazio è altamente simbolico culturalmente caratterizzato ogni bambino cresce annodando la propria storia a quella degli altri apprende a muoversi nelle varie situazioni di vita che diventano apprendimento grazie all'uso delle forme culturali siamo un luogo di interazione ludica ironica creativa fondato sull'imprevisto sulla meraviglia sull'attenzione a ciascun bambino non dimentichiamoci mai che noi accompagniamo l'evolversi dell'essere umano nelle prime preziosi e più dolci stagioni della vita nella consapevolezza che ciascuno di noi in larga misura certo non esclusivamente ma in larga misura è ciò che è stato nell'infanzia quindi c'è una grande responsabilità da parte di noi tutti periodo della vita ricco di potenzialità infinite possibilità di essere cosa sta succedendo nel marzo del 2015 mezzo secolo dopo noi ci troviamo entro uno scenario profondamente mutato che vede cambiamenti nel mondo scientifico sia delle scienze cosiddette umane come si fossero potessero essere scienze non umane e le scienze del mondo fisico lo aveva accennato precedentemente anche Sandra Benedetti noi partecipiamo all'evoluzione partecipiamo in modo attivo all'evoluzione culturale sociale complessiva dove in un momento in una fase in cui si stanno innestando nuovi processi di pensiero il paradigma tardo moderno è ormai giunto allo stato critico e secondo me veramente dovremmo attivare come diceva giustamente la professoressa Mantovani forme di ricerca perché tutto ciò i nostri bambini lo respirano e lo respiriamo anche noi quindi dal mio punto di vista questo significa non tanto in una dimensione meramente veduttiva che è sterile ma il processo è ricorsivo fra l'esperienza e le lenti che ci offre la teoria però poiché i nostri bambini da adulti dovranno muoversi in un quadro di riferimenti ad alta instabilità incertezza imprevedibilità per esprimere pienamente il loro potenziale dovranno possedere capacità non tanto flessibili adattive o applicative ma un pensiero agile critico multiprospettico interconnesso narrativo per questo aiutiamo il formarsi delle intelligenze con i caratteri della generatività quindi capacità a mio avviso indispensabile per integrarsi bene nel futuro formare quindi un pensiero di bambini che abbiano questa dimensione di carattere generativo un rapido accenno però soprattutto in questi tempi credo non possiamo non prenderlo in considerazione al fatto che c'è un fortissimo cambiamento del quadro antropologico e culturale nelle nostre scuole sempre più colorate fin dalla fine degli anni 80 abbiamo e stiamo assolvendo secondo me molto bene un compito importante che è quello dell'intercultura e noi partecipiamo per primi con buoni esiti contesto mondiale non c'è bisogno che stiamo qui sappiamo bene a ciò a cui faccio riferimento si è venuto complessificando in un modo drammatico e pensavamo o almeno io lo pensavo di che avessimo definitivamente sconfitto il male confinato al passato non è così e allora il compito intercultura diventa ancora più importante proprio quello di portare fili aggrovigliati a incrociarsi per costruire qualcosa che prima non c'era proprio cercando di formare un tessuto di culture storie personali solide capaci di resistere agli strappi e le nostre scuole stanno sostenendo un forte carico di eterogeneità e lo sostengono bene sapendovi ben corrispondere perché sanno attivare fattive buone collaborazioni di accoglienza di bambini e genitori penso alle numerose esperienze di reti finalizzate di scuola penso all'utilizzo dei mediatori ai laboratori di educazione interculturale eccetera è stato detto mi piace rimarcarlo e ribadirlo a chiare lettere la prima scuola assolve un'importante funzione di coesione sociale ultima considerazione veramente qualche cenno avremo modo poi di riprenderlo riguarda l'ipotesi 06 in corso di discussione il mio punto di vista io che della scuola gestita direttamente dallo Stato come la sto vedendo io intanto la scuola dell'infanzia tutta è inserita pienamente nel sistema scolastico di cui rappresenta la fondazione secondo me non si colloca in senso stretto nei servizi educativi lo si colloca voglio dire lo è come un liceo c'è anche un liceo un servizio educativo ma non lo è in senso stretto tantomeno è prescolastico non siamo prescuola siamo scuola purtroppo vedo a volte che viene usato in maniera impropria questo tipo di termine proprio per finisco proprio per l'importanza delle parole che orientano illuminano e quindi è bene che continuiamo a chiamarci scuola dico brevemente questo la scuola dell'infanzia di Stato nasce nel sistema dell'istruzione nel marzo del 68 e viene aggregata subito alle direzioni didattiche e ora agli istituti comprensivi fa parte fin dall'inizio dei collegi docenti unitari e dei consigli di istituto la nostra impronta genetica è quella del sistema scolastico che è la condizione certo non basta però è una condizione strutturale per poter costruire un curriculum lungo 314 qual è l'ipotesi delle indicazioni anche i lavori di questi giorni 018 perché no io penso questo che un ridisegno ordinamentale che intenda unificare il settore educativo per la prima infanzia quindi 06 sia un tema di grandissimo rilievo soprattutto per i nidi però richiede molto approfondimento perché per me può rischiare di un distacco da parte della scuola dell'infanzia rispetto al resto dell'istruzione ci possono forse essere rischi di separatezza concludo veramente concludo con questi tre pensierini io auspico che si mantenga in una positiva evoluzione le buone tradizioni pedagogiche e la specificità nella collaborazione e nel dialogo interistituzionale mantenere la tradizione non significa un approccio meramente conservativo statico significa capacità di aprirsi al nuovo non si avrebbe identità se non avessimo dei solidi elementi di riferimento nel nostro paese la scuola dell'infanzia e dobbiamo esserne orgogliosi detiene un ricco importante patrimonio ideale prassico si avvale di un sistema plurale che è riuscita a valorizzare c'è un corpo docente di buon livello molti dirigenti sono autenticamente interessati a questo settore educativo le ragioni le abbiamo dette le sappiamo bene la nostra scuola dovrà rimanere attenta al bambino nell'intera dimensione del suo esistere senza frammentare le varie parti e alla cultura perché noi siamo un luogo di cultura e di formazione attraverso la comunicazione di cultura nella sua complessiva meravigliata meravigliosa ricchezza grazie maestre bene dai lo spazio alla rompianese bene sono d'accordo su tutto quindi allora l'ultimo intervento è Sandra rompianesi pedagogista coordinatrice e presidente della FISM di Reggio Emilia sì buonasera a tutti ringrazio della possibilità e dovrei ripartire da capo a riconsiderare tutti quelli che sono gli elementi del progetto pedagogico delle nostre scuole dell'infanzia e non lo faccio state tranquilli rappresento la terza gamba la ricchezza della nostra regione è certamente questo camminare a tre nel confronto nel percorso anche paritario nella riflessione condivisa nello sbriciolare verificare quelle che sono le attività diventate poi progetti nella documentazione nella valutazione nella qualità da dare ai nostri servizi se mi permettete però vorrei aggiungere solo un tassello piccolissimo mi raccomando però considerate che davvero questo minimo comune denominatore c'è esiste ed è nel cuore appassionato di ognuno dei tronchi che compone il sistema integrato dicevo se mi permettete vorrei mettere un piccolissimo tassello che viene da uno sguardo che è proprio della nostra esperienza educativa quella della scuola paritaria confessionale cattolica ecco e riparto con Giussi Quarenghi che è una scrittrice che usa parole che danno al mondo il respiro del cuore dei bambini voglio bene a te ai tuoi capelli corti ai tuoi lacci sciolti alle tue calze giù a come sei seridi e a quando metti il muso alle tue ginocchia d'ossa ai tuoi occhi seri a come ti viene sonno a come mi saluti e a come corri in piazza quando con noi c'è il vento e sulle case il cielo sta come un mantello viola il mistero del micro universo infantile deve essere nella nostra mano e nel nostro palmo deve essere custodito i nostri sono bambini plurali abbiamo parlato delle loro spinte a sperimentare dell'energia vitale delle competenze multiple della loro fragilità della loro vulnerabilità oggi volevo qua fare questa riflessione mettere l'accento su quella che è la dimensione spirituale il bambino tutto intero ha tra le sue dimensioni anche questa dimensione quella spirituale che è quella delle domande esistenziali degli orizzonti di significato e di senso domande nelle quali i bambini stanno volentieri molto volentieri la dimensione spirituale rappresenta come per l'iceberg la parte sommersa invisibile la parte più grande la parte visibile è quella più piccola senza questa parte l'iceberg sarebbe spinto dalle correnti e dai venti senza avere una stabilità una stabilità propria come può accadere anche all'essere umano spesso per spiritualità pensiamo alla religione ma le due cose non si identificano sono molto diverse tra loro religione vuol dire legare una persona a delle cose a delle credenze a delle norme dei riti a dei comandamenti ecco è solo di alcuni la religione si parla di religioni al plurale ma la spiritualità è una dimensione di tutti la spiritualità è una facoltà dell'uomo di ogni bambino e come tale va educata come tutte le altre accolta accompagnata la spiritualità è proprio questo atteggiamento dell'uomo che vuole trascendere vuole andare al di là di quello che vede di quello che misura del tutto è tutto qui e la spiritualità è accompagnata spesso dall'incertezza dall'inquietudine dall'insoddisfazione rispetto a ciò che è finito è proprio una caratteristica dell'uomo quella della ricerca di ciò che c'è al di là di ciò che ci è dato ma non con certezza quindi la spiritualità si colloca sul versante della domanda e della ricerca e la religione invece si colloca prevalentemente sul versante della risposta le risposte alla ricerca spirituale sono tante ci sono diverse religioni ci sono risposte legate a stili di vita ideologie ma la ricerca è unica è in tutti noi è in ognuno dei nostri bambini la dimensione spirituale ha a che fare quindi con la dimensione più profonda del bambino non va dimenticata accoglierla valorizzare questa dimensione significa accogliere questa aspirazione del bambino alla pienezza alla felicità al senso va quindi curata e presa sul serio nelle sue manifestazioni nelle continue richieste di spiegazioni curarla significa permettere al bambino piano piano di elaborare motivazioni personali interiori che possano ispirare poi il proprio comportamento ai grandi valori universali il bene la giustizia di ieri anche si parlava di giustizia di verità di bene verso le quali il bambino è naturalmente spinto tutte queste motivazioni sono personali la spiritualità è un dato è una dimensione tutta personale soggettiva è sinonimo di grandezza che l'uomo non si stanchi mai di cercare l'uomo ha bisogno di infinito occorre dunque pensare ripensare all'insoddisfazione anche del bambino come sintomo di questo bisogno l'insoddisfazione diventa anche per lui ricerca di risposte ai piccoli grandi quesiti della vita risposte non definitive ma sufficienti ad acquettarlo e a spingerlo oltre e la cosa straordinaria che posso in qualche modo condividere con voi e che quanto più i bambini sono piccoli e tanto più sono capaci di recepire cose grandi e si appagano solo in queste cose grandi ed essenziali un piccolo affondo sull'esperienza religiosa che ci permette di teorizzare così un rapporto radicato più a fondo nell'intelletto del bambino con Dio a questa Dio date l'accezione che meglio desiderate bambini di varie età appartenenti ad ambienti diversi e anche a situazioni diverse ecco quindi fuori dai condizionamenti mettono in evidenza questo coinvolgimento profondo nell'infanzia c'è questo bisogno di religiosità è connaturale il rapporto con Dio fa parte di una dimensione connaturale intrinseca definiamo infatti il bambino bambino metafisico che si muove a suo agio nel mondo del trascendente gode pago e sereno nel contatto con Dio Dio e il bambino se la intendono per chi conosce gli studi della Gnocchi di Sofia Cavalletti i suoi 40 anni di lavoro con bambini davvero di tutte le estrazioni di tutti gli ambiti sa di cosa parliamo essendo l'esperienza religiosa un'esperienza d'amore per il bambino questa esperienza è un'esperienza appagante vado avanti rapidamente e voglio solo arrivare alla comunità educante dalla nostra esperienza e anche da quello che è stato un po' ed è uscito dagli interventi precedenti volevo solo rimarcare che questa è una comunità una comunità primariamente di bambini una comunità di bambini perché l'esperienza è un'esperienza che si costruisce in relazione a questo bisogno di interloquire con i pari in una sorta di equilibrio emotivo affettivo i bambini amici tra loro si scambiano ruoli vivono sperimentano ed è lì che prendono la misura della cura delle relazioni e che apprendono e sviluppano le loro competenze da ultimo se mi permettete proprio solo gli ultimi gli ultimissimi minuti dato che siamo partiti no minuti no secondi secondi gli ultimi secondi vorrei dedicare a questa bellissima assemblea a questo convegno straordinario che ha toccato punte molto alte un pezzettino della lettura del sermone ai cucili della mia specie di Mariangela Gualdieri una straordinaria poetessa di Cesena che dice cose meravigliose che credo ci aiuti proprio a tenere nel palmo della mano il mistero di questo universo infantile ecco adesso cari cuccioli io sono grande sono molto grande sono quello che mai e poi mai avrei voluto essere una persona a grande adesso io sono dei loro adesso lontanissima sono dai miei favolosi sette anni quando ero un genio buono uscito da poco dalla lampada è un filosofo ero ma senza le parole un grandioso poeta analfabeta un artista senza arte adesso qui da questo esilio duro da questo corpo compeso da questa mente complicata da questa mente ingombrante da qui da questo buio che è tutto il mio da qui vi guardo vi adoro vi chiedo aiuto una parte di me vi supplica dicono che siete rotti siete sazi dicono corrotti rotti vecchissimi troppo stanchi per l'infanzia scarichi vuoti allora adesso imparate imparate l'odore dei nemici potenti sbranate cuccioli le loro mani piene scassate le loro tane come gallerie sputate sui loro piatti incendiate le stanze gonfie di giochi scappate morsicate tirate pietre sui televisori scalciate spaccate questo micidiale nostro sogno l'inesauribile bisogno di comfort fateci a pezzi scancellate noi puniteci per avere fatto di voi le nostre miniature per avervi disinnescato resi innocui per non avervi ascoltato nel vostro sommo sapere voi che eravate le porte del regno dei cieli e chi non passava da voi non passava voi che eravate purissima gioia voi che eravate noi bloccati nella più grande bellezza voi che capivate lo splendore misterioso degli animali voi che dormivate un sonno perfetto e benedetto voi che vi svegliavate ridendo voi che facevate balletti strepitosi voi nostre divinità domestiche nascete ancora cuccioli e resistete restate siate salvate giurate siate 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 allora mi dispiace diciamo questa brusca chiusura adesso ci sono i titoli di testa sta chiudendo siamo tutti molto contenti mi scuso di questa frettolosità ma dobbiamo liberare entro pochi minuti la sala perché c'è un'altra iniziativa quindi ci eravamo impegnati a chiudere per le 16.45 quindi devo solo fare alcuni saluti dare la parola a Italo Fiorin per un ideale passaggio di consegne a Trento dico solo che noi volevamo con questa iniziativa ritrovare la scuola dell'infanzia e in effetti l'abbiamo riscoperta cioè abbiamo diciamo l'abbiamo riscoperta nella sua delicatezza nella sua tenerezza è una parola che è ricorsa molto spesso nei suoi valori nella sua identità nei suoi colori nei suoi linguaggi nelle sue trasgressioni quasi una sua originalità una sua autenticità che ha molto da dire agli altri livelli scolastici e questo quell'infanzia e oltre quindi messaggi molto profondi molto ricchi di cui siamo fieri orgogliosi di avere anche diciamo portato avanti questa iniziativa quindi io devo solo fare adesso velocemente nei titoli di test e ringraziamenti al ministero direzione generale degli ordinamenti che ha la titolarità degli ordinamenti scolastici al comitato scientifico nazionale delle indicazioni qui abbiamo il presidente Italo Fiorino all'ufficio scolastico regionale al comune di Bologna che ci ha ospitato la città metropolitana di Bologna che ci ha offerto spazi alla regione Emilia Romagna patrocinio e presenze qualificate lo staff regionale per l'accompagnamento delle nuove indicazioni le nostre università di Bologna e Modena e Reggio la FISM per la parte organizzativa all'istituto comprensivo 21 di Bologna il dirigente Mario Nanni qui impegnato come non mai la sua DSGA Cristina ancora Marcheselli che credo sia presente della consiglia di amministrazione dell'istituzione infanzia già provveditore di Bologna poi anche chi ha partecipato gli uffici regionali i nostri relatori i coordinatori delle sessioni i tutor l'alberghiero con i suoi ragazzi che ci hanno fatto da guida nella città e ci hanno offerto uno splendido buffet il servizio Marconi che attentamente seguiva anche la documentazione il comitato tecnico scientifico del convegno che aveva poi Luciano Rondanini Agostina Melucci Silvana Luiero Enrico Amaducci io il gruppo di insegnanti e dirigenti che ha lavorato con noi Lorella Zauli Silvana Meglioli Maria Pia Babini della Fins Gabriele Ventura del Comune di Bologna Elisa Grandi Laura Lasi Gloria Pistoresi poi altri collaboratori Bianca Cremonini Teresa Bertani Grazia Lindori Lorena Pirani insomma tutti coloro che si sono impegnati adesso io chiederei finito questi titoli di testa di coda testa coda si chiude qui il terzo seminario il quarto seminario si svolgerà a Trento nel mese di maggio poi c'è già un calendario per l'autunno faremo un ideale passaggio di testimoni a rappresentanti della comunità trentina c'è qui Chiara Weger referente progetto formazione la invito a presentarsi perché dobbiamo consegnargli qualcosa lo farà Italo così ne approfitta per chiudere definitivamente bene ovviamente lo faccio molto volentieri prima però voglio fare un ringraziamento perché Giancarlo ha fatto tanti ringraziamenti però io vorrei ringraziare Giancarlo anche che ha rubiamo qualche secondo ma ci vuole che ha una capacità incredibile che è quella di fare di solito c'è chi fa tanto e poi c'è chi fa poco ma bene ecco Giancarlo riesce non so come a fare tante cose e le fa anche molto bene ecco quindi questo è un sincero ringraziamento un piacere collaborare ancora una cosa soltanto qui hanno acheggiato tante tante persone tante storie dietro io avevo due persone in testa però alcune sono state evocate però le voglio ricordare Sergio Neri con cui abbiamo avuto modo di lavorare di collaborare di imparare cui dobbiamo tutti molto e Cesare Scurati anche Cesare è un amico che ci manca perché manca la sua intelligenza manca la sua passione quindi ricordiamo anche loro e detto questo qui hanno combinato una cosa incredibile perché le nove tesi non so se sono nove o diventate dieci ma si sono materializzate e quindi allora arrivederci a Trento arrivederci ancora sulle strade dell'innovazione grazie 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 grazie